Buongiorno, benvenuti, bello finalmente partiamo, stiamo parlando di questo laboratorio da diverse settimane, tutti noi proponenti, partner non vedevamo l'ora di iniziare perché poi sono belli i percorsi però insomma è bella anche la fase concreta in cui si realizzano. Benvenuti e grazie al comune di Melpignano che non solo oggi ci ospita all'interno di questo panorama molto molto bello ma ci ha supportato molto in tutta la fase di progettazione e di realizzazione di questo laboratorio e speriamo anche di ciò che verrà dopo, vedo Ivan Stomeo che è il sindaco e sono contentissima di vederlo anche oggi, è stato in tour con noi questa settimana, abbiamo fatto un giro di presentazioni sia nei due comuni coinvolti quindi Racale e Melpignano che a Lecce mercoledì, ho accanto a me Cosimo Manfreda che è l'assessore alle politiche giovanili e all'innovazione tecnologica. Velocemente solo per dirvi che questo è un laboratorio sul co-working sull'economia collaborativa e più o meno lo sappiamo, cercheremo di affrontare in queste prime due giornate quindi oggi e domani qui a Melpignano sempre dalle 10 alle 20 così il confronto con una serie di esperienze di co-working e di co-living già realizzate sul territorio nazionale, vedremo un po' quali sono i modelli ma anche qual è lo spirito, quali sono le motivazioni, quali sono le difficoltà che si incontrano nel realizzare luoghi in cui si condividono competenze, esperienze, strumenti, risorse e fiducia perché oggi parleremo anche di economia della fiducia e lo faremo in maniera particolare nella pausa pranzo che abbiamo fortemente voluto di due ore perché dall'una alle tre non solo staremo insieme, avremo modo di chiacchierare, di scambiare anche qualche opinione e rilanciarci qualche idea su questo percorso ma avremo modo anche di sperimentare un meccanismo che si chiama FATU di cui Roberto tra l'altro che oggi aprirà questo laboratorio magari ci racconterà qualcosa che è proprio un meccanismo basato sull'economia della fiducia. Vi ricordo le prossime due giornate 23 e 24 maggio a Racale, ci saranno dei moduli sempre sul confronto dei modelli di co-working ma uno spazio particolarmente dedicato alla rigenerazione urbana, faremo un sopralluogo nell'ex mattatoio comunale quindi proveremo a ragionare insieme su come si recuperano i luoghi, su quali possono essere le idee, le metodologie. Sono contenta che oggi ci sia già qui con noi Enrica Longo che è il docente, e li definiamo così, che coordinerà quel modulo. Tutto questo è possibile grazie a Laboratori dal Basso che è una misura importantissima della Regione Puglia cofinanziata dall'Unione Europea, ce ne parlerà meglio Flavia Giordano di Arti, sono contentissima che ci sia lei oggi ad aprire questo laboratorio. È una misura che consente ai giovani imprenditori, alle giovani associazioni di tutta la Regione di esprimere un fabbisogno di formazione riguardo all'impresa, di avere una risposta a questo fabbisogno, una possibilità, un'occasione che probabilmente altrimenti non esisterebbe perché se noi di questa rete avessimo dovuto organizzare e sostenere dal punto anche economico ovviamente la realizzazione di questi momenti non l'avremmo potuto fare, invece lo facciamo grazie a Laboratori dal Basso e lo facciamo in maniera aperta e orizzontale e gratuita per tutti, quindi è un'occasione molto importante che rispetto al percorso che stiamo facendo, che è quello che speriamo ci porterà alla costruzione di una rete di spazi in cui lavorare e vivere insieme esperienze professionali, ha rappresentato quello che io spero sia solo un punto di partenza. Quindi grazie ancora, una sola raccomandazione pratica, su quel tavolino vicino alla porta c'è un registro delle presenze su cui annotare la nostra presenza qui oggi, abbiamo così anche voluto mettere un guestbook, se vi va di lasciare un pensiero, un suggerimento anche sullo svolgimento delle giornate vi chiedo di farlo perché anche questo è prendere parte, partecipare attivamente a questo percorso. Grazie. Un velocissimo saluto, io ovviamente sono contentissimo che finalmente partiamo dopo una lunga maratona, insomma, dopo un percorso lungo perché in realtà questa idea è nata con Simone, insomma, in maniera abbastanza per certi versi anche casuale, insomma, poi si sono create le condizioni perché questa iniziativa potesse essere ospitata qui a Melpignano e quindi ovviamente io sono contentissimo che oggi siamo qui, che siete venuti, ovviamente ringrazio tutti i proponenti che hanno reso possibile perché poi tutto quello che vedete, cioè anche dalla pausa pranzo, ma anche un lavoro legato alla comunicazione di questo evento è stato fatto tutto attraverso un lavoro di volontariato, nel senso che è un progetto da questo punto di vista un progetto non profit. Nulla, solo questo, quindi vi ringrazio ancora per essere venuti e spero che questa iniziativa, che questa esperienza, così come diceva prima Simone, in realtà sia il laboratorio un punto di partenza. Io infatti ho anche manifestato questa idea ad Ivan, al sindaco, insomma, ho in animo, mi piacerebbe che questa esperienza fosse la prima tappa e magari, vi dire, riuscire in futuro a poter concretamente magari realizzare uno spazio di co-working all'interno delle nostre comunità, insomma, un po' così come l'abbiamo immaginato, insomma, non casualmente, non a caso, insomma, anche questa forma del laboratorio è divisa in due comuni perché volevamo sin dall'inizio immaginare e pensare quest'idea di rete, di nodi di una rete, insomma, che si tengono insieme e che condividono esperienze ed energie. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano dell'Arti Regione Puglia, grazie a Simona, grazie a Cosimo, sono anch'io molto, e a Roberto, e sono anch'io molto contenta di essere qui stamattina nel profondo Salento, perché comunque collaboratori dal basso stiamo avendo veramente l'occasione di vedere tantissime belle realtà che si stanno dando da fare e che stanno collaborando con noi per far crescere dal punto di vista delle competenze imprenditoriali, manageriali e sull'innovazione la regione. Vi parlerò brevemente di che cos'è Laboratori dal basso, il bando con cui è stato reso possibile il laboratorio Stai Sinergico. Laboratori dal basso è un'azione della regione Puglia, siamo ormai al secondo bando, che sostiene le giovani associazioni e le giovani imprese nell'ambito della formazione. Cos'ha di particolare un laboratorio dal basso, a differenza magari di un corso che andate a frequentare, quindi gestito e organizzato in tutto e per tutto da un ente di formazione professionale o da un'università, questo corso è organizzato da quelli che sono early beginner della formazione, che non fanno appunto formazione come mission, che non vogliono fare formazione come obiettivo, ma è organizzato da imprenditori che hanno necessità di fare un salto qualitativo e di passare da un livello A a un livello B. Laboratori dal basso si pone proprio al centro e aiuta, traghetta gli imprenditori in questo passaggio come? Aiutandoli ad organizzare il corso dei loro sogni fatto a misura per loro e che riempia appunto quel gap che c'è nello spazio tra il sogno di simonapalese. Interessante. No, più che altro, simonapalese insieme al gruppo di ragazzi, perché qui c'è un cluster, c'è un fortissimo gruppo di persone che ha organizzato questo laboratorio, simonapalese e questo gruppo di ragazzi ha un sogno, quello di realizzare un co-working, sono tutte, ripeto, associazioni, imprese che stanno insieme viaggiando verso un obiettivo, quello di creare impresa in maniera innovativa e in maniera collaborativa. Noi, ripeto, ci inseriamo al centro di questo percorso che loro stanno già facendo, ma che noi stiamo aiutando stiamo supportando come facendo venire sul loro territorio, quindi a Racale, a Melpignano, i professionisti, che siano imprenditori, che siano esperienze da tutta Italia sul tema del co-working, a raccontare la loro esperienza e a fornire quelle informazioni, quel sapere necessario a fare questo salto qualitativo. Come diceva Cosimo, Laboratori dal Basso è un'iniziativa no profit da parte di chi organizza il Laboratorio dal Basso, perché? Perché noi non diamo una lira alle organizzazioni. Perché? Perché non diamo una lira? Perché innanzitutto vi trattiamo da imprenditori, quindi di solito chi partecipa a un Laboratorio dal Basso è già un'impresa, è già un'associazione che fa già attività e quindi è già sul mercato, e quindi se è sul mercato crediamo che sia in grado di stringere partnership, di fare fundraising, e poi perché comunque il nostro obiettivo, cioè il nostro contributo, è proprio il Laboratorio stesso, quindi noi vi compriamo di fatto i docenti, li facciamo arrivare qui, e questo è il nostro contributo. Ripeto, si tratta di una co-organizzazione, noi cosa copriamo con Laboratori dal Basso? copriamo le spese relative al vitto e all'alloggio dei docenti, i docenti che scegliete voi, Simona ha scelto uno per uno tutti i docenti che fanno parte di questo laboratorio, e diamo loro appunto un compenso orario parametrato con quelli che sono i criteri del Fondo Sociale Europeo, perché il Laboratorio dal Basso è un'iniziativa del Fondo Sociale Europeo. ci occupiamo anche dell'attività di streaming, di diffusione dei contenuti, e nel caso in cui ci fosse bisogno di traduzione, perché questo non è il caso di Stai Sinergico, però in molti laboratori dal Basso ci sono docenti e esperienze che vengono anche da fuori Italia. Tra l'altro, veramente con laboratori dal Basso, voi potete invitare le persone che meglio rispondono alla vostra esigenza di crescita, di conoscenza, quindi da questo punto di vista noi cerchiamo sempre di spingervi a fare il meglio, a invitare persone stimolanti per voi e per il territorio. Laboratori dal Basso è un bando che è aperto ancora fino al 27 giugno, adesso siamo nella seconda fase, quindi se avete voglia di presentare, se siete delle giovani imprese, delle associazioni, avete voglia di presentare un laboratorio dal Basso su tematiche di imprenditoria innovativa, raccontateci come volete crescere, raccontateci qual è il vostro bisogno di crescita imprenditoriale, e noi attraverso un'attività anche di coprogettazione, quindi noi ci sentiamo anche, se volete, prima dell'invio della candidatura, vi aiutiamo anche meglio ad orientare, essendo voi non professionisti della formazione, ad organizzare il laboratorio. Attenzione ai contenuti, bisogna parlare di imprenditoria e attenzione al tema dell'innovatività, diciamo, laboratori troppo tecnici, troppo settoriali vanno bene, ma fino a un certo punto, cioè noi vorremmo che i laboratori dal Basso diventasse un po' uno strumento per la crescita imprenditoriale e manageriale della futura classe di imprenditori, di giovani imprenditori pugliesi, quindi vi dicevo, il bando è aperto fino al 27 giugno per realizzare laboratori durante i mesi autunnali, quindi da marzo a novembre. Contattateci se avete bisogno di avere informazioni su come si presenta un laboratorio dal Basso o andando sul sito www.laboratoridalbasso.it o scrivendoci a laboratoridalbasso.puglia.it L'altro consiglio che vi posso dare è di essere curiosi, perché insieme a Stai Sinergico stiamo realizzando tantissimi laboratori proprio in questi giorni in tutta la Puglia, quindi se siete interessati a temi che spaziano dalla cultura all'editoria, c'è veramente tantissimo da seguire, all'agricoltura, ci sono tantissimi laboratori sull'agricoltura, quindi tutte le informazioni le trovate sul sito, se non potete andare a seguire in presenza come oggi un laboratorio, la maggior parte delle lezioni sono fornite anche in streaming, quindi le potete seguire in remoto da casa e poi successivamente, a conclusione del laboratorio, le potrete seguire sempre in remoto da casa, ma ovviamente indifferita, quindi potrete seguire tutto quanto il laboratorio. Chiedo anche a Simona, agli organizzatori, di raccogliere le slide, le presentazioni, il materiale didattico in maniera tale che venga messo sulla piattaforma di laboratori dal basso e sia libero e accessibile a tutti quelli che vogliono seguire i laboratori dal basso anche in un secondo momento. Sul sito dei laboratori troverete anche tutti i 75 laboratori e testimonianze che sono stati realizzati nell'anno scorso, quindi andate a consultare questa biblioteca che stiamo cercando anche di ottimizzare, nei prossimi giorni faremo un cambio del sito, quindi lo renderemo anche più navigabile, stiamo facendo anche un lavoro di tag in maniera tale che voi possiate seguire veramente i corsi che vi interessano di più. Io oggi sarò qui con voi, quindi se avete qualche domanda magari durante la pausa pranzo io sono a disposizione per qualsiasi dubbio, quindi buon inizio. Grazie, dico due parole su Roberto. Allora, io sono contenta che questo laboratorio lo apra Roberto Covolo, a parte che è il mio sogno, l'abbiamo detto prima. Mi sono posta la domanda, cosa dico su Roberto? Potrei dire tante cose, è un grande cuoco, questo va detto, è stato inserito da Riccardo Luna tra i primi 100 innovatori d'Italia, è anche project manager di Exfad, ma è tantissime cose, oggi ci racconterà sia delle esperienze di Exfad, ma credo che il racconto sarà molto più ampio, il suo modulo è Dalla competizione alla cooperazione, nuove prospettive per l'imprenditoria giovanile a sud. Grazie Roberto. Va bene questo, no? Va bene. tutti grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Allora, tre cose in premessa, non sono un grande esperto di economia collaborativa, però in questi anni abbiamo fatto una serie di cose che ci hanno fatto capire che fare cose insieme ad altri è meglio che farle da solo perché ha dei vantaggi e cercherò di raccontarvi quali sono questi vantaggi. Seconda cosa, siamo dentro un esperimento di strategia collaborativa. Flavia l'ha detto, ma voglio sottolinearlo. Quest'operazione di laboratori dal basso funziona non solo perché è una formazione basata per una volta sulla domanda di formazione, cioè persone che vogliono imparare possono decidere chi è la loro offerta di formazione, ma funziona perché attraverso una strategia di condivisione di risorse abbatte dei costi in maniera molto importante. Hanno fatto degli studi, no? Per valutare la prima fase di laboratori dal basso e c'è un risparmio che credo ammonti a circa il 63% nel rapporto tra ore di formazione, tra la formazione professionale standard finanziata dal Fondo Sociale Europeo e questa modalità. Questo perché? Perché i costi di organizzazione e di management vengono distribuiti. La strategia della collaborazione è una strategia della distribuzione che individua le persone non come destinatari finali, voi sapete, nei bandi della formazione professionale cioè i destinatari finali, ma in realtà come protagonisti, cioè come portatori di risorse. Cioè la scommessa è che sul territorio esista una domanda vitale di formazione che sia opportunamente stimolata attraverso delle risorse condivise, in questo caso da parte della regione Puglia può generare, diciamo, più risultati rispetto alla pianificazione ordinaria della formazione. Per cui, diciamo, guardate quello che sta accadendo con questi occhi e anche la giornata di oggi con questi occhi. Cioè è una strategia di collaborazione in cui in questo caso una pubblica amministrazione e dei giovani imprenditori, dei ragazzi di questo territorio stanno provando, come devo dire, a collaborare per essere reciprocamente utili e per abbattere dei costi. Terza premessa. Mi piacerebbe che questa discussione fosse una chiacchierata, piuttosto che, diciamo, io che parlo tanto, ma anche qui proviamo a interromperci, fare delle domande. Io ho preparato una presentazione, diciamo, in due grandi aree. e cercherò prima di raccontarvi alcune idee che abbiamo in questi anni messo a punto nelle varie esperienze che abbiamo realizzato nel mondo privato, nel mondo della pubblica amministrazione, nel mondo del volontariato, diciamo, un po' la traccia poi della biografia mia e delle persone che nei vari anni hanno lavorato con me. E poi vi racconterò più nello specifico, visto che questo è un laboratorio sul co-working, di ex Fadda, che qualcuno di voi l'ha visitato in questi mesi. Non è uno spazio di co-working, diciamo, è uno spazio, boh, diciamo, non abbiamo ancora capito che cos'è, proprio perché è uno spazio di vita, sì, insomma, è uno spazio dove anche la gente lavora, però, ecco, l'idea è che non siamo molto, diciamo, affezionati alle definizioni, quanto piuttosto alla sperimentazione di processi e non crediamo nei modelli, cioè nel senso che penso che ognuno debba avere la libertà di inventare rispetto al proprio territorio, alla propria biografia, una strategia per mettere in campo le proprie risorse, per cui le storie, ecco le storie che sono molto importanti, quindi vi racconterò la storia di ex Fadda, dei protagonisti, delle persone, qui c'è anche Martina con cui stiamo lavorando insieme per far rinascere questo vecchio stabilimento enologico a San Vito dei Normanni. e poi devo aprire una presentazione. Ok. Com'è? Così, no? Ok. Oh, cioè questa presentazione volevo dargli un titolo, no? Però siccome mi sembrava un po' ridondante dalla competizione alla cooperazione, perché poi sembra che uno sa tutto, in realtà solitamente come diceva John Lennon la vita è quella cosa che accade mentre sei impegnato a fare altro, no? Secondo me l'innovazione sociale è la stessa cosa. Cioè mentre sei impegnato a fare le tue cose accadono delle cose se stai facendo le cose in maniera aperta, interessante, collaborativa che ti insegnano che un certo modo di fare le cose può essere più efficace, più impattante, più coinvolgente. per cui vorrei condividere con voi diciamo queste cose che ho imparato. Giustamente uno dice ma chi sei esattamente? Vabbè, Simona diciamo ha introdotto questo palmaresse di quest'ultimo anno in realtà le cose che vi racconterò nascono da un percorso che ho cominciato quando ero molto giovane nel mio paese che si chiama Terlizzi in provincia di Bari in cui nasceva questo quartiere 167 e dentro questa 167 c'era un centro parrocchiale. Questo centro parrocchiale diventò una specie di casa per i cittadini che cominciarono ad abitare questo quartiere quando ancora diciamo non era terminata la sua costruzione non erano state realizzate le infrastrutturazioni primarie. Io penso che lì mi sia venuto un po' l'imprinting e su che cosa vuol dire diciamo fruire di uno spazio condiviso dentro una comunità di persone che abita un quartiere che abita un territorio e poi abbiamo fatto moltissime cose diciamo prima nel mio paese con la politica poi sono stato anche assessore a Terlizzi e lì quando ancora non si parlava insomma di recupero di immobili dismessi lanciammo l'idea del recupero di un vecchio mattatoio abbandonato per trasformarlo in uno spazio culturale eravamo molto suggestionati all'epoca dalle esperienze diciamo legate alla riqualificazione partecipata dei collettivi come Avventura Urbana o altri collettivi che soprattutto nelle città del Nord Italia sperimentavano la progettazione partecipata attraverso un approccio sociale antropologico per cui aprimmo questo spazio abbandonato con le camminate di quartiere portammo gli artisti a fare le residenze nelle stalle abbattute e fu questa esperienza che poi mi traghettò a partire dal 2007 a collaborare con Bollenti Spiriti perché Bollenti Spiriti aveva un'azione al suo interno legata al recupero di immobili dismessi e poi da lì insomma ci siamo inventati i principi attivi la piattaforma che regge diciamo così lo sviluppo delle politiche giovanili regionali poi i laboratori dal basso poi nel 2011 diciamo ho fatto una deviazione importante nel mio percorso professionale da un paio di anni vivo a San Vito dei Normanni dove stiamo lavorando al recupero di questo immobile dismesso è una vecchia fabbrica ma diremo lungamente dell'ex FAD nel corso della giornata di oggi e poi insomma in queste settimane stiamo per lanciare una nuova avventura perché la regione Puglia ha deciso di aprire una scuola dentro il programma di politiche giovanili la scuola di bollenti spiriti e con altre persone stiamo immaginando come costruire diciamo così un luogo che faccia ricerca e azione nel territorio di Taranto per fare queste cose qui ok? cioè per provare a costruire progetti di sviluppo locale dal basso con il coinvolgimento dei giovani in un contesto geograficamente relazionalmente economicamente socialmente più debole rispetto ai flussi principali di beni e di persone che ci sono che ci sono in questa regione quindi questo per farvi un po' un overview delle cose di cui mi occupo principalmente c'è un gran parlare diciamo in quest'ultimo periodo del tema dell'innovazione sociale che è un po' la lente attraverso cui vi propongo di leggere anche questo percorso di co-working che affronterete in queste quattro giornate io dico sempre l'innovazione sociale non è un tema per cui non esistono gli esperti di innovazione sociale ma l'innovazione sociale è un modo di fare le cose cioè è una maniera attraverso cui gestire processi ordinari è una modalità di fare project management cioè di leggere i processi che dall'analisi del contesto definiscono degli obiettivi attraverso cui si sviluppano delle azioni che devi coordinare tenendo conto dei mezzi a tua disposizione il tempo lo spazio le risorse umane le risorse economiche sicuramente l'innovazione sociale non sono i computer per i disabili Nichi Vendola molto spesso dice l'innovazione sociale abbiamo aperto i centri di connettività cioè nel senso che dico lui perché è l'esempio classico che mi viene in mente quando penso a uno che non ha capito di che cosa stiamo parlando poi lui ha capito moltissime altre cose per carità però diciamo c'è un grande diciamo da questo punto di vista come dire fraintendimento cioè non stiamo parlando di tecnologie per favorire l'accessibilità ok? quando parliamo di innovazione sociale e non stiamo parlando neanche diciamo dell'innovazione intesa in termini di ricerca quindi laboratori di ricerca delle università tutto il mondo degli spin off non è questa roba qui non è l'innovazione tipica che si fa nelle aziende legata a migliorare il proprio posizionamento per la competizione nel mercato per la ricerca di profitto quindi noi non siamo esperti diciamo così di ricerca applicata allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuovi servizi market oriented e quindi che cos'è? una prima riflessione per trovare una definizione abbiamo capito in questi anni che molto spesso gli strumenti delle politiche pubbliche quindi diciamo in generale lo Stato e alcune soluzioni offerte dal mercato quindi diciamo il libero mercato della circolazione delle merci non sono in grado di risolvere alcuni enormi problemi sociali economici territoriali del nostro territorio ne siamo pieni intorno vi farò una serie di esempi per cui né le leve del mercato e né le leve della pubblica amministrazione sono in grado di fornire ai cittadini o ai consumatori direttamente una serie di servizi o di prodotti che soddisfino i loro bisogni di che cosa stiamo parlando per esempio di alcuni problemi sanitari le malattie legate agli stili di vita pensate al grande tema dell'obesità nei paesi occidentali per esempio o i servizi assistenziali la crescita della popolazione anziana specie nelle aree interne del mezzogiorno e le risorse sprecate i voti urbani sto facendo una ricerca molto empirica diciamo così sul tema dei terreni abbandonati nella zona dell'Alto Salento ed è una questione incredibile una risorsa sotto utilizzata intorno a noi mentre viaggiamo in macchina e non ce ne accorgiamo le emergenze ambientali come il traffico la qualità del territorio il degrado urbano gli immobili abbandonati in questi giorni siamo a Tarantovecchia per impostare la scuola è una città che è passata in 40 anni da 20.000 a 2.000 abitanti con un patrimonio per la metà pubblico edilizio in condizioni di degrado nello Stato nel mercato riescono a intervenire efficacemente per capire qual è il futuro dell'isola della città vecchia oppure emergenze sociali questa scuola sarà una scuola basata sul coinvolgimento di quelli che l'Unione Europea chiama NIT cioè Not Education Employment and Training cioè i ragazzi under 30 che non studiano non lavorano e non sono inseriti in nessun percorso di apprendimento le statistiche ci dicono che al Sud Italia oltre il 30% degli under 30 sono in questa categoria è un dato allarmante ma è il dato che riguarda mio cugino l'amico mio cioè sapete tutte le persone di 30 anni che sono che riguarderà probabilmente anche molte persone che sono in questa stanza c'è questo enorme problema di accesso che le giovani generazioni italiane hanno nei confronti non solo del mondo dell'occupazione ma in generale nei confronti del mondo della vita attiva cioè come si fa a entrare per cui diciamo così la nostra lente è su una serie di questioni di problematiche che non riescono ad essere affrontate efficacemente né dalle leve dello Stato né dalle leve del mercato e per cui l'innovazione sociale dal nostro punto di vista è una chiave di lettura che ci permette di provare a indagare una terza via rispetto alle tradizionali soluzioni che ci vengono prospettate per cui esiste uno stabile abbandonato e lo Stato dice facciamoci la biblioteca ma voi sapete che è la contrazione delle risorse pubbliche i modelli di gestione del pubblico la spending review e così via oppure il mercato potrebbe dire abbiamo un immobile abbandonato facciamone un residence però gli investimenti però l'accesso al credito cioè ci troviamo in una fase complice alla crisi economica in cui diciamo i due grandi player su cui abbiamo strutturato anche le nostre ideologie politiche no? gli statalisti e i liberisti in qualche modo sono abbastanza in difficoltà rispetto a delle questioni che riguardano le sfide della modernità l'invecchiamento della popolazione il degrado del nostro territorio l'abbandono per cui l'idea è che è possibile lavorare nei prossimi anni alla costruzione di reti miste a geometria io dico asimmetrica dove dentro ci sono profit no profit singoli cittadini organizzazioni private soggetti giuridicamente costituiti gruppi informali che si auto-organizzano cioè che decidono a un certo punto di mettersi insieme per raggiungere un obiettivo a tutte le foto sono di Martina Leo che non la cito mai diciamo sono molto utili per le mie presentazioni che si capisce no? della foto proprio si mettono insieme per cercare di soddisfare bisogni vecchi e nuovi quindi non stiamo parlando come dire di questioni che hanno a che fare con l'ultima ricerca sulle nanotecnologie ma stiamo parlando di come faranno i nonni della mia famiglia ad affrontare in maniera efficace la loro vecchiaia rispetto al fatto che gli stili di vita dei miei genitori e miei sono cambiati rispetto a due generazioni fa come farà il comune di Melpignano a gestire il suo patrimonio pubblico visto che il numero di dipendenti comunali decresce le risorse per la gestione diminuiscono e gli immobili hanno bisogno di manutenzione se no collassano cioè no? per ottimizzare l'utilizzo delle risorse risorse vuol dire anche persone dal mio punto di vista e nel senso che io penso che siamo di fronte al più enorme spreco di risorse intorno al tema dei giovani che l'Italia abbia mai conosciuto sia un ragazzo sotto i 30 anni diciamo ha rinunciato a partecipare alla vita attiva ok? ovviamente ci sono vari gradi diciamo di questa disaffezione nei confronti dei sistemi costituiti però lo spreco di capitale umano io penso che sia veramente grida vendetta ok? nei confronti dei ragazzi ma anche delle risorse naturali delle risorse territoriali cioè come si fa a ottimizzare quello che abbiamo cioè indossare dei nuovi occhiali e dire che laddove tutti vedono sfiga noi possiamo provare a vedere opportunità possiamo provare a segnare una strada a capire se questo è sostenibile e soprattutto diciamo così ed è il tema su cui insistiamo molto nell'ultimo periodo cioè se questa cosa riesce a garantirci un reddito perché il problema diciamo di tutto sto dibattito è che molto spesso diciamo così poi si arriva a 30, 35, 40 anni in cui collaboriamo e poi diciamo non riusciamo a mettere insieme e quindi cioè il tema della strategia collaborativa dell'economia collaborativa vale dal mio punto di vista se quando tiriamo la linea riusciamo a portare a casa uno stipendio ok? cioè nel senso che per me è molto importante un approccio come devo dire di concretezza rispetto a questi discorsi e se vi sembra che qualcosa delle cose che sto dicendo sia campata per aria spingete il bottone rosso fermatemi perché vuol dire che qualcosa non va bene reti di persone e di organizzazioni che lavorano per obiettivi di miglioramento sociale e però per realizzare delle soluzioni che siano più aderenti ai propri valori e alle proprie aspirazioni voi vedete la società di prima diciamo ci raccontano gli economisti produceva ricchezza attraverso due elementi fondamentali che erano i mezzi e le materie prime ok cioè l'economia capitalista diciamo ha costruito la propria fortuna attraverso il fatto che esisteva la trebbiatrice esisteva il grano il capitalista introduceva delle risorse e questa cosa qui attraverso il coinvolgimento della forza lavoro produceva ricchezza le statistiche ci dicono che in occidente questo modello è un modello in sostituzione nei confronti di quella che si chiama economia della conoscenza cioè cresce l'economia legata ai servizi in cui non sono più semplicemente le risorse economiche i mezzi le materie prime a generare ricchezza ma sono le idee e le persone cioè l'importanza dello human factor dentro la produzione di ricchezza è indispensabile se qualcuno di voi ha un'azienda un'organizzazione sa bene che nella propria organizzazione non è vero che una persona vale un'altra non è vero che è possibile sostituire all'interno di una software house il programmatore esattamente come nella catena di montaggio si sostituiva l'operaio perché il fattore umano legato alla tua storia alla tua creatività alla tua capacità di risolvere problemi quella cosa che già diciamo i toyotisti avevano capito è una cosa fondamentale per cui il contributo delle idee delle persone e quindi per questo diciamo il richiamo alle aspirazioni e ai valori è una questione fondamentale quando parliamo di innovazione sociale per cui qual è l'idea e che cosa è questa benedetta innovazione sociale è sicuramente un nuovo modo di fare le cose che abbia come lenti le questioni a cui stiamo accennando è una nuova idea sia di prodotto che di servizio o di modello organizzativo o di sviluppo può essere applicata a tanti ambiti può essere applicata alla vostra azienda alla vostra associazione al vostro modello di consumo familiare alla modalità attraverso cui ci spostiamo per andare al lavoro e adesso vedremo alcune caratteristiche di cose che secondo me diciamo sono collaborative e possono essere lette attraverso la lente dell'innovazione sociale primo tema strutture centralizzate contro sistemi distribuiti una grande differenza tra le cose di prima e le cose di dopo è che le cose di prima hanno la logica della pianificazione cioè il centro pensa un piano un programma un progetto e dispone delle risorse per realizzarlo e dispiega una serie di attività che poi vengono concertate monitorate per raggiungere i suoi obiettivi questa è la logica che ci hanno insegnato in tutto il project management se voi partecipate a una lezione un seminario un master sul project management vi diranno qualcosa di questo genere invece noi siamo un po' fissati sul fatto che i sistemi distribuiti dentro una nuova società in cui tu non riesci a controllare tutte le variabili intorno a te possano essere più efficaci dei sistemi centralizzati solo che questa cosa non l'abbiamo solo capita noi che magari diciamo ci divertiamo a fare i nostri giochi in provincia ma per esempio l'hanno capito molte pubbliche amministrazioni questo per esempio è il comune di Udine che ha lanciato una piattaforma di government attraverso cui i cittadini possono segnalare su una piattaforma di servizi e quindi diciamo così concepire in una logica distribuita una funzione che la pubblica amministrazione solitamente gestisce in una logica centralizzata quindi il sindaco dice tenere sotto controllo una città è complicato gli amministratori che sono qui dentro lo sanno bene quindi non basta mandare i nostri vigili in giro perché poi i vigili sono sempre di meno non puoi assumere una stessa cosa bene e quindi la soluzione è spingere verso un modello collaborativo sfruttare una risorsa distribuita cioè la conoscenza che le persone hanno del territorio e come amministrazione accettarsi di mettersi in gioco perché ogni strategia collaborativa prevedendo un'apertura prevede una cessione di potere questo per me è un significato politico molto forte perché quando il tuo potere non è diciamo dentro una logica di comando ma è dentro una logica di servizio anche il ruolo di una pubblica amministrazione può cambiare può cambiare molto perché ovviamente se io segnalo una buca e poi l'ente diciamo ci mette a risolverla più tempo di quello che ha promesso questa cosa si ripercuote in termini importanti rispetto al capitale che una pubblica amministrazione e la politica devono raccogliere cioè i voti sostanzialmente quindi questo esempio però mi serviva per raccontarvi di come anche le pubbliche amministrazioni oggi stanno ragionando su come i sistemi distribuiti cioè i sistemi aperti sono più efficaci rispetto ai sistemi concentrati e nel corso della seconda parte vi farò un esempio di come questa cosa qui noi la stiamo riportando dentro il nostro modello di gestione legato a uno spazio culturale che non è finanziato dal pubblico ok ma che deve come devo dire pagare gli stipendi pagare le bollette pagare la manutenzione e così via un altro tema da problema a risorsa questo è abbastanza banale cioè nel senso che ormai tutti dicono i giovani non sono un problema i giovani sono una risorsa il fatto di essere in periferia e quindi nel tacco d'Italia non è un problema una risorsa quindi non vi dico niente di nuovo ma vi faccio degli esempi cioè nel senso che quello che fino a ieri era considerato un posto in cui se ci è ricapitato per te era finita in questo caso la disabilità può diventare una straordinaria occasione per inventarti un lavoro Vincenzo De Luci era la prima tromba dell'orchestra sinfonica di Bari fa un incidente diventa tetraplegico fa tutto un percorso di riabilitazione per tornare imparare a suonare con una modifica tecnologica della propria tromba trasformata da uno strumento a pistoni uno strumento a culisse per assecondare il movimento residuo del suo braccio e oggi lavora per aprire un laboratorio scuola di prototipazione e formazione per musicisti disabili quindi cioè provare a ragionare su come i limiti personali di un territorio possano diventare dentro il mondo globale qualcosa di estremamente attrattivo per comunità differenti anche di persone molto distanti da noi e qui c'è tutto il tema del welfare di seconda generazione e del rapporto con le aziende dell'innovazione tecnologica un mondo si apre se a un certo punto tu decidi di smettere di lamentarti e a me Vincenzo mi ha insegnato questo cioè smettere di lamentarti anche se sei su una sedia a rotelle e di cominciare a fare qualcosa insieme vi invito ad andarlo a conoscere lui è a Fasano diciamo neanche particolarmente lontano questo è un lavoro anche abbastanza breve perché noi abbiamo lavorato insieme sul ritorno alle scene nel 2010 e in quattro anni diciamo ha messo su un percorso molto interessante intorno a noi c'è un sacco di roba questa è la scoperta e questa è la buona notizia siamo abituati a un refrain per cui nei nostri paesi non c'è nulla in realtà non è così spazi abbandonati pubblici o privati possono diventare spazi di produzione o di socialità questo è banale ma è per farvi un esempio di come anche in Puglia oramai il tema della valorizzazione dello spazio abbandonato può diventare diciamo così un grosso punto una grossa leva attraverso cui provare a immaginare percorsi di cambiamento il tema delle risorse sottutilizzate può essere applicato a qualsiasi processo vi faccio un altro esempio nel nostro lavoro in questi anni abbiamo incrociato l'esperienza di moltissime organizzazioni giovanili aziende di ragazzi e una di queste si chiama Softboom ed è una software house che ha sede a San Vito nei Normanni formata da due ragazzi che si chiamano Fausto e Giancarlo che hanno studiato a Torino e poi hanno deciso di tornare in Puglia per fondare la loro azienda ICT sono bravi e infatti una loro applicazione è leader in Europa nel settore degli autovelox sono quelle applicazioni che ti permettono di sgamare quando c'è l'autovelox un po' più avanti loro non hanno ancora capito esattamente qual è il loro modello di business ma la loro applicazione ha circa 6 milioni di download per cui sono ragazzi svegli vengono da noi e dicono è molto difficile costruire un team di sviluppatori a San Vito dei Normanni noi ci vogliamo provare però dateci una mano per trovare persone che siano disposte a venire a vivere qui con noi o perlomeno a passare dei lunghi periodi per lavorare insieme fianco a fianco sviluppare nuovi prodotti avremmo potuto fare una call e però quella loro domanda di personale a me è sembrata subito una risorsa latente da utilizzare per cui cosa le abbiamo proposto e noi vi aiutiamo a sviluppare un percorso di formazione che a voi serve come nuova metodologia di selezione quanto tempo ci avreste impiegato a fare questa selezione con dei colloqui tradizionali 15 giorni bene organizziamo insieme un percorso di 15 giorni in cui voi insegnate a dei ragazzi di questo territorio a sviluppare applicazioni a voi serve perché il più sveglio di queste persone sarà probabilmente la persona che vi porterete in azienda ma a queste persone molte delle quali stanno senza fare niente sarà molto utile a prendere una competenza spendibile nel mercato e nel nostro caso Exfadda che magari le mattine di quelle due settimane aveva degli spazi liberi sotto utilizzati quindi da mettere a valore diventava la possibilità di realizzare a costo zero un'iniziativa poi comunicata e così via voi capite come è possibile costruire dentro strategie collaborative dei modelli a costo zero in cui forme di cooperazione riescono a produrre più valore di quello che le singole organizzazioni riescono a mettere in campo e questo perché perché si lavora sulle risorse latenti sulle risorse sotto utilizzate l'abbiamo detto prima le persone in una strategia collaborativa non sono utenti le persone non sono target solitamente si dice qual è il nostro target chi è la nostra utenza ma se la smettiamo di concepirci semplicemente come erogatori di attività e di servizi ma vogliamo giocare a fare la partita dei networker perché santi Dio se vogliamo aprire uno spazio di co-working non stiamo semplicemente vendendo delle scrivanie stiamo scommettendo sulla nostra capacità di mettere insieme le persone di mettere insieme le risorse e quindi le persone sono portatori di risorse e vanno visti con questo sguardo tutti possono essere potenziali alleati in questo bollenti spiriti diciamo è stata una grande palestra per noi per applicare questo concetto voi sapete che solitamente le politiche giovanili in Italia sono state concepite come politiche di servizio ai poveri giovani svantaggiati per cui lo sportello molto spesso disabitato o il servizio in cui si dice giovani venite voi sapete un po' come siamo tutti più o meno coetanei per cui diciamo le politiche giovanili degli anni 90 in Italia sono state una tragedia ed è probabilmente questo il motivo per cui diciamo noi abbiamo allevato generazioni e di persone incapaci in questo momento di prendere in mano le sorti di questo paese bollente spirito ha provato a dire una cosa semplice i ragazzi possono non essere destinatari di un'azione finanziata alle cooperative esperte di servizi del terzo settore che poi aprono un servizio uno sportello una roba X per i giovani ma possono essere gli interlocutori diretti di una pubblica amministrazione per cui prendiamo le nostre risorse in questo caso il denaro e spartiamolo direttamente con i ragazzi e quando abbiamo detto che noi volevamo prendere qualche milione di euro e fare quella cosa che si dicevano che non si facesse il finanziamento a pioggia noi abbiamo detto facciamo il finanziamento a pioggia cioè nel senso facciamo un finanziamento ovviamente basato sul merito cioè con una commissione esterna che valuta la qualità dei progetti in cui noi siamo amici di tutti non siamo amici di nessuno garantiamo il fatto che questo sarà un processo trasparente in cui le persone si fideranno di noi e così via e là è cominciato un percorso che in questo momento diciamo sta portando una rivoluzione di politiche giovanili e non solo da un certo certa area insomma di politica dell'innovazione in Italia che guarda la Puglia diciamo come riferimento quindi smetterla di considerare le persone utenti ma cominciare a considerare le persone come portatori di soluzioni perché l'idea di bollenti spiriti è che i ragazzi non sono più un problema sociale per la Puglia ma sono quelli che se opportunamente incoraggiati possono aiutarti a rivitalizzare il tuo sistema sociale il tuo sistema economico ora non voglio fare propaganda di bollenti spiriti però in questo momento la società per azioni con l'amministratore delegato più giovane d'Italia che è Black Shape a Monopoli è nata da un progetto di principi attivi forse l'avrebbero fatto lo stesso però ora che cosa vuol dire collaborare tutti dicono che dobbiamo collaborare per cui vengono da te e dicono dobbiamo collaborare dammi le cose gratis questo è un grande must della collaborazione e quindi su questo anche qua c'è molto misunderstanding credo poi perché a me piace molto la gratuità è un elemento importante vengo diciamo da quel mondo però scientificamente che cosa vuol dire esattamente una strategia collaborativa cioè quando si creano le condizioni perché delle persone effettivamente collaborino secondo me quando si condividono necessità da un lato cioè quando si ha lo stesso bisogno cioè partendo da una cosa concreta che a noi ci serve mettendoci insieme la possiamo raggiungere e poi quando abbiamo delle cose in più cioè quando rispetto ai nostri bisogni vitali la nostra strategia di vita produce delle eccedenze che possiamo mettere a disposizione per scambiare non mi ricordo qual è l'esempio qui è questo qui questa è una signora che io ho conosciuto in un dibattito che abbiamo fatto tempo fa e che mi è sembrata molto intelligente perché lei fa una cosa molto utile molto semplice ma molto fica cioè dice nei condomini di Milano ci sono bisogni condivisi da parte dei nuclei familiari legati alla tutela degli anziani possiamo immaginare una nuova generazione di servizi in cui gli anziani condividono le badanti ora magari questo non lo possiamo poi fare qua perché qui da noi è diverso la famiglia ancora però quello che voglio dirvi è un modo di ragionare in cui tu riesci a individuare bisogni condivisi dentro una logica di spazio-tempo sostenibile in questo caso un condominio rispetto a delle ore di una giornata e strutturi una nuova categoria di servizi di prodotti di modelli organizzativi in cui la condivisione dei bisogni o delle eccedenze può generare lavoro in questo caso e costi accessibili e così via diciamo che l'ideologia che governa il mondo ci ha insegnato che tu ti devi fare i fatti tuoi diciamo così che noi siamo stati governati cioè viviamo dentro proprio una cultura anche in Italia che ti dice ma te che te ne fotte non sostanzialmente io penso invece che sta avvenendo una rivoluzione culturale in occidente e che riguarda il fatto che le persone hanno bisogno di comunità hanno bisogno di scoprire il fatto che stare insieme è una dimensione che è propria dell'essere umano e che diciamo così questa sbornia liberista ci ha fatto dimenticare comunità non individui che cosa vuol dire che è possibile immaginare condivisione di servizi di nuova generazione legati a tenere i bambini andare a prendere i bambini da scuola fare la spesa cose semplici legate al concetto di comunità al concetto di mutuo aiuto al mutualismo diciamo che è uno dei valori fondanti se volete anche della nostra Repubblica Democratica ma che è poco presente diciamo nelle nostre pratiche quotidiane qualcuno di voi forse conoscerà l'esperienza di Via Fondazza a Bologna che è un'esperienza che è diventata molto nota come la prima esperienza di Social Street in Italia e in realtà ci sono molti esempi simili in questi giorni a Taranto ho scoperto delle cose bellissime che esiste una rete di ragazzi che per aprire il patrimonio minore di beni storici architettonici della città di Taranto che il comune ignora che cosa fa? coinvolge le persone che abitano accanto cioè le persone che abitano accanto sono proprietarie delle chiavi delle chiesette e c'è un sistema organizzato attraverso tutto tu puoi andare suonare alla persona farti dare la chiave aprirti la chiesetta guardarla ora voi capite la potenza in questo caso di un sistema distribuito comunitario relazionale rispetto a un fatto che né lo Stato né il mercato riuscivano a risolvere come la fruizione di un bene architettonico minore che non essendo la cappella sistina è destinato all'oblio all'abbandono l'innovazione sociale l'economia collaborativa le strategie di cooperazione non pensano solo al valore ma pensano anche ai valori stanno nascendo delle bellissime esperienze di cooperazione sociale in Puglia che hanno al centro dei valori fondanti ragazzi che si mettono insieme per gestire beni confiscati alla mafia oppure credo l'esempio che ho segnato qui a Lecce forse conoscete l'esperienza di Luciana delle Donne quindi non devo non devo dirla cioè guardare come devo dire al tema della produzione economica come a un tema di imprenditoria sociale un altro concetto molto forte che ritorna cioè me lo trovo sempre davanti diciamo man mano che noi facciamo facciamo cose in giro è questo tema della generatività cioè di modelli generativi che sono più efficaci dei modelli dissipativi cioè dei modelli che consumano risorse cioè modelli che producono più risorse di quante tu ne investi rispetto a modelli in cui la prima domanda è qual è il budget infatti io dico cioè noi dobbiamo imparare a lavorare senza budget ma non perché che non è quella roba lì di quel video che gira su internet dove dice coglione no cioè non è quella roba là ok ma è invece cioè immaginare che tu puoi lavorare in una strategia in cui la costruzione di risorse non dipende dal capitale che possiedi ma dipende dalle relazioni che inneschi stiamo aprendo un ristorante quindi il sogno della mia vita si sta realizzando vi invito a cena diciamo prossimamente anzi qua ho anche delle tesserine che volete comprare delle cene in anticipo faccio un po' di propaganda ecco anche per dimostrare cioè adesso stiamo vendendo delle cene in anticipo per sostenere la liquidità che ci permette di realizzare i lavori per cioè noi non avevamo tutti i soldi quando siamo partiti no cioè li stiamo raccogliendo man mano ok allora dice l'azienda ok i pagamenti li puoi negoziare anche lì cioè come devo dire ragionare su un modello cioè nel senso che facciamo anche delle cose vere diciamo non andiamo solo in giro con i powerpoint a raccontarlo e per cui stiamo aprendo questo ristorante che è un ristorante che vuole ragionare sul tema importantissimo del nuovo welfare cioè dire è possibile immaginare che il welfare non sia semplicemente servizi di assistenza ma che il welfare possa essere creazione di lavoro come strumento di inclusione sociale allora abbiamo detto proviamoci facciamo un ristorante in cui il personale è personale disabile in cui noi investiamo sulla scommessa che quello che è pietra di scarto può diventare testata ad angolo anche in una logica tradizionale di marketing perché voi ascolterete questa storia e probabilmente questo ristorante riuscirà a sostenere la sfida del mercato e per cui in un'epoca in cui le attività commerciali legate alla somministrazione di elementi e bevande in Puglia hanno una tendenza che fa così noi scommettiamo sul fatto che a San Vittorio e Normanni aprirà un ristorante dove anche qualcuno di Melpignano e Racola e prima o poi verrà a mangiare quindi facciamo questa scommessa poi vediamo poi vediamo se è vero e anche qui abbiamo lavorato su un mix di risorse risorse private risorse di fondazioni bancarie risorse pubbliche per quanto riguarda le borse lavoro dei ragazzi abbiamo messo su un'architettura molto complessa cioè far accadere le cose è difficile poi questa è l'altra brutta notizia invece nel senso che ci vuole tanto lavoro bisogna abituarsi all'idea che questo tipo di attività non sono attività in cui si guadagna molto ma in cui si guadagna io penso il giusto per poter vivere se si è bravi e quindi questo ristorante adesso inaugura il 29 di maggio coinvolge 16 ragazzi in condizioni di disabilità che gestiscono un orto sinergico la sala e la cucina quindi poi abbiamo fatto anche lì abbiamo cercato come dire di immaginare che il ristorante sociale non è il ristorante che tu ci vieni perché i poveri ragazzi disabili ma quindi abbiamo fatto la formazione con un cocostellato siamo andati a parlarci abbiamo convinto che questa cosa era efficace poi siamo andati a una fondazione bancaria ci siamo andati a sostienici perché è il tuo investimento è l'unico investimento nella provincia di Brindisi insomma abbiamo costruito anche lì un percorso efficace siamo in questi giorni alle prese con una selezione molto accurata di fornitori di materie prime che ragionano sul tema del prodotto di qua a chilometro zero sul tema dell'eticità nella produzione e così via quindi questo per dire però che è possibile immaginare un welfare che non solo consuma risorse ma un welfare che produce risorse perché noi vorremmo che alla fine del progetto il 25 del progetto diciamo della sperimentazione di un anno il 25% dei ragazzi possa avere un'occupazione stabile che vuol dire che un investimento tutto sommato limitato perché questa operazione complessivamente costa 160 mila euro diciamo farla partire come investimento potrà generare tre posti di lavoro per persone che erano assolutamente fuori dal mercato del lavoro della vita attiva dalla socialità per cui immaginare sistemi di welfare generativi secondo noi vuol dire questa roba qua quindi stiamo provando a fare a fare questa cosa sto facendo lunga chi ore sono meno un quarto facciamo altri dieci minuti facciamo una pausa ok condivisione fiducia feedback sono termini che ci sono diventati familiari da quando viviamo l'esperienza dell'utilizzo di facebook ok quindi tutti condividi mi piace il commento il feedback quindi una cosa molto prossima diciamo la nostra vita quotidiana su cui qualcuno ha costruito delle intelligentissime aziende web che offrono servizi collaborativi di nuova generazione che stanno cambiando il mercato in alcuni settori molti di voi useranno Balbla Car molti di voi useranno Airbnb è questa diciamo così il capitalismo collaborativo è questo qui ok cioè nel senso immaginare che sistemi distribuiti quindi i posti e le risorse sottutilizzate i posti auto vuoti della macchina che va da Bari a Milano possano diventare risposta a bisogni concreti e produzione di valore ok ovviamente il web da questo punto di vista diciamo è fondamentale il tema della fiducia perché è fondamentale perché diciamo tu per dare la tua casa dare il tuo posto macchina introduci un nuovo valore e quindi una nuova moneta di scambio all'interno della tua dinamica socio-economica che è legata al fatto che ti fidi della persona che ti porti in macchina perché perché c'è il feedback da parte degli utenti che hanno già viaggiato con quello la condivisione dell'informazione ok quindi c'è queste cose qui dobbiamo capirle bene quando le le facciamo come coach surfing sì insomma ce ne sono mille ok ormai di cose di questo tipo anche a scale più piccole ma ce ne sono di interessantissime anche legate al sistema del prestito no cioè rispetto al fatto che il credito è inaccessibile per i ragazzi sono una serie di piattaforme che permettono alle persone di prestarsi denaro tra di loro vabbè insomma poi ognuno di voi ne conoscerà ne conoscerà moltissime per dirvi che questo ragionamento diciamo così nella sua forma mainstream diciamo a questo tipo di applicazione poi io dico sempre non è che dobbiamo proprio fare il cambiamento sistematico no cioè quando io ho cominciato a lavorare nel campo dello sviluppo locale i miei capi erano fissati con i programmi i piani di sviluppo e ancora tuttora diciamo quando gli enti o le aziende ragionano ragionano in termini di pianificazione di programmazione no invece io penso che sia più efficace per la lente dell'innovazione sociale ragionare su piccoli movimenti interconnessi per cui un'idea grande come diciamo orizzonte di valore come quadro di riferimento ma poi per realizzare qualcosa in piccolo e che abbia risultati in un tempo sufficiente per poter testarlo cioè ragionare sulla propria attività di impresa di impresa sociale come se fosse un'eterna beta cioè nel senso cioè provare provare riprovare provare riprovare piccolo veloce diciamo come quando vai nella giungla cioè non andare pesante cioè vai leggero muoviti no sperimenta questo diciamo così l'ho riportato come esempio a una serie di esperienze di riqualificazione urbana che fanno riferimento alle teorie di avevo un urbanista molto famoso che adesso non ricordo che parla di agopuntura urbana cioè la possibilità che è possibile generare processi di riqualificazione in spazi abbandonati non attraverso una massiccia pianificazione di interventi un dispiegamento potente di risorse ma attraverso appunto microinterventi che generano una nuova cultura della partecipazione nei territori e possibilità di riqualificazione e manutenzione collettiva l'esempio in Europa più recratante è quello che si è realizzato a Saragozza che si chiama Estono Esun Solar che è un intervento di riqualificazione urbana low cost partecipata dai cittadini e che ha permesso diciamo alla città di Saragozza di riqualificare entieri quartieri attraverso l'assegnazione di lotti a singoli collettivi organizzazioni che supportati dalle utilities della pubblica amministrazione realizzano interventi di cui si prendono cura noi abbiamo fatto alcuni esperimenti in Puglia anche da questo punto di vista questo è un intervento a Taranto legato alla realizzazione di un parco giochi partecipato dalla città per cui c'è un ragionamento in cui al centro non ci sono le risorse quindi l'ingenti finanziamenti pubblici e firmati per la trasformazione ma piccoli interventi interconnessi che generano effettiva diciamo capacità di utilizzo di uno spazio pubblico però le cose che facciamo diciamo così non devono essere testimoniali cioè molto spesso si dice ah bello però eravamo dodici ok nel senso che dobbiamo anche immaginare che questa roba dell'innovazione sociale possa avere impatto nelle nostre comunità quando abbiamo cominciato a lavorare con Exfad abbiamo detto ok questa cosa funziona ma se questa cosa da lavoro a 20-25 persone se ci saranno 3000 metri quadri utilizzati nel senso c'è ragionare su meccanismi in cui non ti diverti solo tu no? questo è un po' un problema di chi si definisce un innovatore sociale cioè che molto spesso facciamo una cosa figa no? siamo io i miei amici però in realtà è un gioco a far divertire gli altri ma quando dico divertire dico a far percepire che la cosa che stai facendo è utile per lo sviluppo delle traiettorie di vita di altre persone no? e quindi io credo che si possono realizzare attraverso strategie collaborative di condivisione delle risorse di nuovi approcci rispetto alla produzione anche iniziative di impatto con questa nuova lente e quindi vi ho portato un esempio che non c'entra nulla con le cose che facciamo noi ma che secondo me è centrale di come può cambiare un modo di ragionare la Feltrinelli che ha fatto voi tutti avete esperienze diciamo di fruizione di una Feltrinelli? penso di sì no? io quando ho aperto Feltrinelli è sembrato a tutti diciamo molto bello a Bari quando ho aperto la Feltrinelli in Uva ma perché era molto bello? perché quella roba uno sostituiva una funzione tradizionale pubblica attraverso diciamo così uno spazio privato cioè il fatto dove io posso andare in un posto in cui ho fruizione di libri in un contesto aperto in cui sostanzialmente nessuno mi controlla ma chiaro non te lo puoi rubare però lì dentro tu che cosa puoi fare? puoi prendere la loro risorsa principale cioè il libro cioè quella cosa che loro ti vendono sederti e leggerla cioè il management di Feltrinelli ha pensato che la condivisione di una risorsa no? in termini di gratuità potesse essere una strategia di marketing per stare sul mercato a me mi è sembrato molto interessante diciamo perché solitamente questo è un tema che ha a che fare con la fiducia la condivisione no? quando uno eroga un servizio in attività la prima cosa che fa è dice oh c'è cliente tu e io erogatore no? in realtà immaginare dei contesti in cui meccanismi di condivisione delle proprie risorse generano partecipazione e quindi quella partecipazione può diventare anche un elemento diciamo che ti permette di partecipare in maniera più attiva a un mercato di scambio economico secondo me è molto interessante Feltrinelli è la principale rete di librerie in Italia quindi impatto non testimonianza ma che decide di farti leggere se vuoi gratis un libro cioè tu puoi andare teoricamente tutti i pomeriggi prendere un libro leggere 20 pagine al giorno ma nessuno ti dirà nulla cioè a me mi è sembrato cioè mi sembra come devo dire curioso oppure diciamo così una serie di esperienze che stanno nascendo legate alla valorizzazione a fini commerciali di posizioni di svantaggio Addio Pizzotravel per esempio un'agenzia di viaggi che è nata intorno alla valorizzazione di luoghi attività ristorativi per il pernotto di servizi turistici che decidono di dichiarare di non pagare il pizzo alla mafia quindi quello che poteva diventare un problema se vivi in un territorio se opportunamente ribaltato può diventare un'occasione per costruire impatto e poi penso che dobbiamo stare molto attenti alle cose che nascono in contesti selvaggi e non pianificati ma che per clonazione imitazione contagio sono portatori di innovazione in questo momento per me in Puglia il principale laboratorio di ricerca sul tema dell'educazione non formale non è finanziato da una politica pubblica non c'entra nulla con bollenti spiriti ma è portato avanti da dei ragazzi che si chiamano Ammazza che piazza che a Taranto sono stati in grado di mettere insieme centinaia di ragazzi tra i 18 20 25 anni che fanno azioni di riqualificazione collettiva di spazi pubblici abbandonati nella città di Taranto ma ai quali può essere molto interessante dire che quella cosa che tu stai facendo può diventare una forma di costruzione di economia collaborativa legata alla manutenzione di una città in cui gran parte degli spazi verdi sono abbandonati ma lo fai attraverso l'esperienza attraverso la contaminazione del contagio e la diffusione di pratiche di questo tipo per cui chiuderei qui questa prima parte perché non c'è nient'altro se non ci sono domande magari le teniamo le facciamo adesso o dopo? facciamole adesso ok vai grazie abbiamo parlato di modello dissipativo contro modello generativo e quindi dicevamo il fatto che comunque non bisogna partire dall'idea di un capitale che ci viene fornito ma dai contatti più che altro che riusciamo a creare con altre risorse umane in poche parole e questo poi diventa importante nel momento in cui parlando poi di welfare dicevamo che non partiamo da un'idea di assistenza ma partiamo cioè ci proiettiamo verso un'idea di creare qualcosa che vada a vantaggio di più persone anziché favorire quelle poche persone con un finanziamento ottenuto ecco vorrei un attimo proprio che ci chiarissi questo questo piccolo passaggio ti faccio un esempio sì allora domani sera stiamo inaugurando una libreria e lo stiamo facendo diciamo a San Vito dei Normanni e questa libreria sarà gestita da due ragazzi di 20 e 22 anni tipo uno è famoso perché si sveglia sempre a luna quindi per dirvi come devo dire il tipo no perché io sono un po' fissato sul fatto come devo dire che cioè rispetto al fallimento dei sistemi educativi tradizionali al fallimento se vuoi anche del mercato del lavoro di essere inclusivo cioè c'è bisogno di creare contesti in cui le persone comincino a fare qualcosa Andrea Paoletti saluti il famosissimo Andrea Paoletti stiamo aprendo questa libreria no? sta libreria qui come abbiamo come è nata questa idea e Naudi Editore sta ristrutturando il suo sistema di distribuzione questo perché questa è un'esperienza che immagino molti di voi avranno prossima no? le librerie di paese chiudono perché non hanno una clientela sufficiente o perlomeno le librerie che ci sono sono la cartolibreria no? che poi magari c'è anche l'angolo dei libri no? e quindi loro dicono cioè come facciamo noi a distribuire in Pugli efficacemente i nostri libri e questa tipa diciamo così che fa la responsabile di distribuzione e marketing ha avuto un'idea secondo me molto interessante e cioè dicendo possiamo immaginare che appoggiandoci a posti in cui già esiste fruizione no? posti pubblici posti privati di qualsiasi tipo noi apriamo un punto in Audi ok? cioè un corner più o meno grande a seconda della disponibilità di spazio e di capacità di gestione che affidiamo a delle persone di nostra fiducia che come Enaudi ok? realizzano un'attività di carattere commerciale legata alla distribuzione dei nostri libri su tutto il territorio pugliese e noi abbiamo incrociato diciamo questa l'hanno sperimentato l'hanno fatto a Palo del Colle dentro uno spazio del comune poi l'hanno fatto dentro un centro culturale credo in provincia di Foggia adesso lo stanno provando a fare da noi dentro Exfada quindi noi diciamo il nostro lavoro qual è stato? c'erano dei ragazzi che ci avevano detto ah noi siamo appassionati di letteratura vorremmo fare il laboratorio di letteratura con i bambini ma caspita cioè perché invece non fate qualcosa che provate a mettervi una 200 euro in tasca no? che perlomeno potete poi no? cioè anche provare un po' uscire da questa logica del workshop del laboratorio no? cioè fare qualcosa invece che abbia a che fare col fatto che cioè vendiamo i libri ai bambini delle scuole cioè facciamo qualcosa come devo dire che non sia semplicemente ah che bello abbiamo fatto il laboratorio no? ne ho fatti tanti però dico cioè come dire qualcosa che generi delle quindi voi capite come in questo caso diciamo un modello differente di organizzazione di risorse già presenti perché in Audi i suoi libri ce li aveva i ragazzi già esistevano e l'ex Fad già c'era ma se mischiati in una maniera differente possono diventare per in Audi la possibilità di aumentare la sua rete di distribuzione per noi di utilizzare uno spazio abbandonato ancora del nostro stabilimento per riqualificarlo e quindi contribuire in quota parte poi a pagare le utenze poi vedremo il nostro meccanismo di funzionamento interno no? e per questi ragazzi diventa un'esperienza che non sarà il lavoro della loro vita ma li permette in quella fase della vita in cui tu devi provare a fare qualcosa il che vuol dire che ci ingegniamo a capire come costruiamo le librerie ci ingegniamo a capire come questa cosa qua costruisce un rapporto positivo con le scuole del territorio ci facciamo due conti per capire per metterti un soldo in tasca al mese quanti libri dovrei vendere per in Audi cioè capisci cioè cominci a diventare una persona un po' più sveglia perché poi quello è tutto il cresci ok? cresci no? quindi poi il mio pallino particolare è sul tema dell'educazione non formale dei giovani per cui diciamo quello magari è anche un campo di gioco più semplice per cui hai accesso a molte diciamo risorse informali e i ragazzi sono disposti se opportunamente incoraggiati a venire provare sperimentare no? però io penso che sia applicabile anche ad altri contesti cioè provare a guardare con uno sguardo nuovo con un nuovo punto di vista le cose che già esistono pausa? sì direi no? sì 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 sì